Sterilità. Che lotta furiosa durante i primi tirocini. Ora, sembra banale, ma allora sbagliavo in continuazione. Era tutto un... Ah, no. Sbagliato. Butta via, ricomincia. Ora, se stai guardando questo video, penso che tu sappia perché è fondamentale che alcune procedure siano eseguite in sterilità. Magari lo sai perché hai conoscenze mediche o esperienza nel mondo sanitario, ma una persona esterna, diciamo un inesperto, come se la caverebbe con dei guanti sterili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, still off by that much. Try again. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, try again. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, try again. Oh, try again. Grazie a tutti